Un'installazione multimediale e interattiva per approfondire il fenomeno della tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo. Dopo il grande successo di No Body arriva a Buccinasco Workers, storie di ordinario sfruttamento. Il nuovo progetto sostenuto dal comune, ideato e realizzato grazie alla sinergia tra la Lule e la compagnia Favola Folle. La mostra si inserisce all'interno dell'iniziativa Mettiamo le Ali, dall'emersione all'integrazione. Un progetto a contrasto della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento, finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Il nostro tentativo è quello in dieci stazioni di raccontare il fenomeno da dieci punti di vista, attraverso dieci meccanismi umani che possono collegare il pubblico al soggetto che raccontiamo dentro l'installazione. Abbiamo una prima stazione più informativa, una seconda stazione che si occupa del tema della fiducia, una cosa a cui difficilmente si pensa quando si tratta il tema in modo legale o sociale. C'è una fiducia di cui i lavoratori investono i proprietari e che viene negata quasi subito. Questo è un tema molto interessante. Oppure c'è il tema del sentirsi inadeguati, del motivo che abbiamo voluto cercare di indagare, il motivo anche per il quale queste persone rimangono intrappolate in questo meccanismo. Sia in senso di sistema ma anche in senso proprio umano. Che cosa lega lo sfruttatore allo sfruttato e viceversa. Questi sono i temi che cerchiamo di indagare e cerchiamo di far percepire sulla pelle dello spettatore non solo un racconto di questi meccanismi ma anche proprio una sensazione di subirli, di viverli nel momento in cui entrano in una stazione oppure interagiscono con le installazioni che trovano nell'installazione. Buccinasco ha ospitato un'altra mostra sullo sfruttamento sessuale no body che ha avuto un successo incredibile a Buccinasco come in realtà in tutto il sud ovest Milano. È stata una mostra veramente molto partecipata che i cittadini hanno apprezzato. Quindi da assessora alla cultura ed anche ai servizi sociali tento di legare l'ambito culturale con l'ambito sociale. E quando ho visto che Favola Folle aveva un nuovo progetto insieme a Lule che ricalcava di nuovo un altro tema, quello dello sfruttamento lavorativo, ero certa e sono certa che i miei cittadini lo avrebbero apprezzato. Al pubblico viene anche mostrato l'ambiente lavorativo in cui le vittime di tratta e non sono costrette a operare per ricevere in cambio un compenso iniquo che testimonia come questo fenomeno sia avvicinabile a una vera e propria schiavitù contemporanea. Spesso si ha un po' la concezione così forse fuorviante che è un fenomeno che esiste prettamente al sud, immaginiamo le baraccopoli, immaginiamo i raccoglitori di pomodoro e pensiamo che al nord questo non accade. Accade sotto altre forme, tra l'altro accade non solo in agricoltura come si potrebbe pensare ma anche nella zootecnia, nella logistica, nell'edilizia. Con delle forme che vediamo a volte completamente legate a delle forme di caporalato e dunque di intermediazione illecita, a volte con delle forme di intermediazione illecita, questo lo vediamo spesso, tra virgolette, formalmente regali come cooperative spuri o non liminali che sfruttano le persone. Vediamo una grossa mobilità su alcuni territori e stiamo ormai da due anni anche in coprogettazione con istituzioni di vari territori quali le prefetture. Questo ci sta permettendo di intercettare il fenomeno dove si cerca caporalato, lo si trova in realtà, la volontà ci deve essere.